19 febbraio 1953 Nasce a San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli Massimo Troisi Attore, regista, sceneggiatore, nuovo interprete della tradizione teatrale partenopea Troisi inizia la sua carriera artistica nel 1972 Nel 1976 fonda con Lello Arena e Enzo De Caro il trio comico La Smorfia ottenendo subito un grande successo L'esordio cinematografico avviene nel 1981 con Ricomincio da Tre seguito nell'83 da Scusate il ritardo L'anno successivo, in coppia con Benigni, ottiene uno strepitoso successo di pubblico con Non ci resta che piangere Muore nel giugno 1994, poco dopo la fine delle riprese di Il Postino per cui riceverà una candidatura postuma all'Oscar come migliore attore protagonista